SIGEP 2020 siamo allo stand della Lavazza, l'azienda torinese che oggi fattura oltre 3 miliardi di euro ed è presente quasi in tutti i paesi del mondo e siamo in compagnia di Fabio Sipione. Special Clients, Trainer and Events. Fabio, benvenuto. Benvenuti anche voi. Siamo davvero benvenuti perché ci siamo messi in una posizione dove alle nostre spalle macinano e preparano il caffè di nuova generazione di Lavazza, quello che presentate qui a SIGEP 2020. Di cosa si tratta? Allora, a SIGEP 2020 abbiamo portato i nostri prodotti, dividendoli in i classic, quindi abbiamo gli speciali e poi da questa parte appunto dove ci troviamo noi invece abbiamo tutta la linea tierra. Quindi abbiamo portato il caffè dalla Colombia, abbiamo portato il caffè dal Brasile e poi appunto una selection di vecchi progetti che hanno alzato la qualità del caffè. Infine abbiamo portato la formazione, quindi abbiamo un banco dedicato alla formazione che attraverso i trainer che abitualmente svolgono formazione nei nostri training center, diamo delle pillole formative. Queste pillole formative servono per qualche modo indirizzare le persone ad alzare la qualità anche proprio nei bar. E tu sei proprio uno di questi trainer, ti occupi nello specifico dei clienti speciali, dei grandi clienti. Quali sono le attività che si vanno a svolgere? Si fa formazione, quindi si invitano tutte le persone che per qualche motivo incrociano il mondo del caffè. E su questo non parliamo solo di baristi, ma anche giornalisti, chef, persone che abitualmente magari incrociano il caffè ma non sono appunto dei semplici baristi. A loro cerchiamo di dare tutte le nozioni per riuscire a mantenere alta la qualità che produciamo. Qui a CIGEP 2020 avete uno stand un po' diverso rispetto agli altri anni, un po' più chiuso ma estremamente contenuto. Quanto siete soddisfatti di questa nuova vision? Siamo molto soddisfatti, abbiamo cercato proprio di indirizzare le persone in un percorso. Questo percorso fa sì che tutti transitando dallo stand tocchino sia il banco della formazione che tutte le nostre linee appunto di caffè. Così che appunto in un passaggio riescano a visitare tutta la lavazza. Bene, ed ora è giunto il momento della presentazione del nuovo Country Manager Italia e Svizzera, Igor Nuzzo, che andiamo a questo punto ad ascoltare perché verrà a presentarsi al pubblico di CIGEP. Grazie Fabio per la collaborazione. Grazie a tutti voi, è sempre un piacere ritrovarvi. Grazie a tutti.